Siamo in piazza Borno, oggi è la festa della transumanza. Ecco che arrivano delle mucche. Qua ci sono anche i vitellini. Eccolo qua, un vitellino. E adesso arrivano gli asini. E qui abbiamo le capre. E le pecore anche. Questi sono asini. Ecco che arrivano le pecorelle. Sono quelle tosate queste. Un asinello piccolo, guardalo qua. Ecco i cavalli.